Signori miei ben ritrovati, riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati con il nostro Dios Ex Mankind Divided Abbiamo Adam che non è appostissimo, ops Materiali per creazione, guarda quanta roba L'ho raccolto qualcosina ma c'è un sacco di cosette Belle, belle e utili, allora proseguiamo in quello che è in teoria l'appartamento del nostro Adam Qui a Praga stavamo per ricevere una sorta di cimice che avremmo dovuto utilizzare E ci facciamo la doccia, incredibile Avremmo dovuto utilizzare negli uffici del nostro capo Mamma mia che talloni E' il problema che è avvenuto proprio in quel momento un attentato incredibile alla stazione di Praga Casino atomico Proseguiamo signori miei Purtroppo ve ne sarete accorti Soprattutto per quanto riguarda Deus Ex nell'episodio precedente E anche per This War of Mine Ho dei problemi ormai costanti con le cuffie e il microfono C'è da dire che hanno lavorato e stanno lavorando ormai da tantissimi anni Asciugatrice e lavatrice Guardalo come sei fornito di tutto Stanno lavorando ormai da anni Penso sia giunta l'ora di sostituirle Purtroppo eh Perché per quanto riguarda il mio ascoltare l'audio Trafficante d'armi ucciso a Dubai Ok John Trent è vero Ma c'era Putin Per quanto riguarda il mio ascoltare l'audio E parlare nelle chat Funzionano ancora Benissimo Sì ragazzi l'ho impostato un attimo in inglese Per sentire come era il doppiaggio Perché l'italiano non è male Ma non è neanche eccezionale E funzionano benissimo vi stavo dicendo Purtroppo quando vado a registrare C'è questo ronzio E ogni tanto sparisce Si alza e si abbassa la voce Addirittura viene staccata È un problema È un problema Ok Non è una questione del microfono È una questione proprio delle cuffie Però essendo integrato Il collettivo Juggernaut ha avuto origine All'inizio del decennio del 2020 Quando un hacker di nome Eli O Eli Ha pubblicato su Darknet Un messaggio di chiamata alle armi Dalla forma scadente In mezzo a errori grammaticali Di ortografia Invitava tutti coloro Che erano disgustati dal dominio Dell'1% della popolazione A unirsi a lui per attaccare E portare allo scoperto questi personaggi Sventandone i piani Sembra un po' Un discorso all'X-Man Se ci pensate Questo odio contro i I modificati Potenziati Sembrano un po' I mutanti Degli X-Man Comunque devi caricare la batteria del padre Buongiorno Adam Tu hai un nuovo messaggio From? David Sarif Sarif Adam David I know it's been a while But after what happened in Prague yesterday Look son Whatever reasons you've had For not getting a touchy's last two years Well I'm not sure I'm leaving for London But give me a call You've saved his video Fico Non mi dispiace la voce di Adam Grande Dopo ci vestiamo La voce di Adam in inglese Però capisco che sia un po' più comodo Anche da seguire in italiano Dato che abbiamo comunque lingua E sottotitoli completamente Chiama Sarif Guarda TV Battene Chiama Sarif Completamente nel nostro Nel nostro italianino Potevi vestirti prima nella parca Did anyone you know get hurt? You know me Tend to keep to myself I'm surprised to even know I'm here Interpol call me when you applied for the job Part of their extensive background checks I gave you a glowing recommendation Thanks What do you want? What do I want? Jeez, Adam I know I did some questionable things in the past But a lot's happened in the last two years To both of us In effetti That's true For what it's worth I'm glad you made it out of Pantia Thank you Wasn't easy as I'm sure you know Ma sei nudo tutto? Scusa No Ma sei nudo tutto? Scusa No Ma sei nudo tutto? Ma sei nudo tutto? Scusa Sono l'unica corporation biotech che potrebbe Dopo l'incidente Our patents, our tech, our tech, everything Ah well Sometimes one dream has to die So another can rise from its ashes Ah Megan, Frank Richard Megan Reed E' il nome Il nome che mi ricordo Ero la dottoressa che dovevamo salvare Human Revolution Roca Seca Beach? Veramente California I wonder if she's told her mother You want my advice son? Write her out of your life Because I'm damn sure she's written us out of hers Vabbè You talked to Pritchard lately? Frank All of us I think he's the one who's changed the least He probably told you there wasn't anything about it What if he changed? Adam I'm sure you would But when the world transforms itself the way ours has People need to adapt Or get left behind Frank's freelance But he's still in computer security Still in Detroit I don't know if he'll ever leave Your message said you were going to London Casual trip? Or is this tied to the new trip? Casual trip? I'm meeting with the Santo group Nathaniel Brown and his investors Santo? They built the Udelec complex The Aug ghetto Here in Prague Why are you meeting with them? Brown's got big plans He wants to focus on real solutions Ideas that look to the future You've heard of the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia The wild city he and his company are building in the desert for Augs He's just a part of it We're talking about self-sustaining energy efficient arcologies That can be replicated anywhere on Earth Cities built by the Augmented For the Augmented Where the dream of self-controlled human evolution lives on It may not seem like it right now, son But one day People will move on from the incident And when that happens We'll be ready for it I'm glad we caught up, Adam I've always tried to look out for you, you know That bombing yesterday You didn't call to talk about the bombing Just ask Veramente nudissimo It's nothing really I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year The department in Detroit was least in your name even though we paid for it Fine, send me the paperwork Thanks, Adam I appreciate it, really Goodbye, Seraph It's strange that there is always a double fine It's always a double fine It's okay, Adam It's okay, Adam The life of your life is this Can we watch the TV? Let's watch the TV Let's watch the TV Let's watch what they do Sante group Perca È finta Ma che c'ho Ok, l'attentato Vabbè, dai ragazzi, andiamo avanti E c'era una mail Del mio stilista Che mi ha fatto l'impermeabile Ma voi ragazzi state scherzando Ma It's good to finally hear from you, Agent You're doing okay? Sorry about the downtime I'll get to the office as soon as I can But my AUG's took a hit during the attack I need to get them looked at Of course There's a lot of work ahead of us, Jensen I'll see you when you get in Vi dicevo, scherzate I need to pay you a visit Jensen Now is actually a really good time for me Like right now Si riesce a parlar There are some guys in my bookshop Pissed off the valley gangsta Modificato anche lei The front door is the most peaceful option I got it Civile parla Ah, va bene, grazie Ehm Riguardo al Al cappotto di Di Adam Livello sicurezza 1 Io provo a violarlo Riguardo al cappotto di Adam Ai tempi di Human Revolution C'era un sacco Di gente che Aveva ordinato su internet Perché Piaceva tantissimo Ma scusami un cavolo di attimo Perché non posso prendere questo? Se lo fortifico Se lo fortifico Si incazza Ah, ma ok Anomaly Detectively Trace program Initiated Access denied Ma beccato Il tracciamento della subrutina Ha provocato il blocco Ok Ok Là stavo arrivando Però Non posso più Eh Per un po' di tempo Adesso non posso più Che palle Eh Ci riprovo Ma Fammi capire Noi dobbiamo andare qua Al verde Dai, 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 dai Ok Quindi Se io volessi azzardare Ropa mi becca Perché c'è sto robo Api Archivio dati Eh Ci sono tante cosine utili Questo che cos'è? La diagnostica Se noi riusciamo a prendere questo Non possiamo girare tutto quello che vogliamo La fortificazione Pesa tantissimo Ci beccano sicuro Qua il rilevamento assoluto Qua c'è una buona probabilità Io dovrei azzardare Questo Che però Non mi dice neanche Di poterlo prendere Di dire la verità Boh Vabbè Scolta Prendi questo qua Ok Questo l'abbiamo preso Io provo a fortificarlo L'abbiamo fortificato Qui così Dai 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 Ok Il dispositivo è stato sbloccato Software nuke Smanettone Bene Grazie Ma qui siamo in casa di qualcuno Quindi Eh si Eh madonna C'è più C'è più Arraffa arraffa Negli appartamenti Qui che In fan fantasy Madonna Si è tornati Ai tempi d'oro Quando si entra nelle case Degli altri A rubare Le robe WC Mamma mia Che spettacolo Ragazzi Non stiamo facendo niente Questo Questo sarà un appuntamento Dove Vagheremo E ci faremo i cazzi Degli altri Questa è l'anima Di Deux Non è vero Però C'è anche tanta Di questa Robetta Da Valutare E io me la godo Perché Mi va Ed è un gioco Finalmente Un po' diverso Del solito Spacca le teste Magari Chiedi dopo Permesso Di qua Oh mio dio Che schifio Ma che cazzo Si ma è un orso Con delle texture Discutibili C'è un dancing cat Eh si Gattini ragazzi Mi piacciono a tutti Accedi al computer Ci proveremo Tantissimo Ma ruba tutto Dio santo C'abbiamo bisogno Perché ci spaccano i denti Usa il telescopio Ma veramente Ma che bello Vediamo se c'è qualcosa Di interessante Sono i due tizi loschi Quelli Di cui parlava Prima Il mio amico Magari fatemi sapere Se preferite L'italiano Ma lo rimetterò Italiano Io lo vorrei lasciare Così anche Per Mi piace Sentir parlare In inglese Però Daria Miska Benvenuto Ci troviamo Non ce l'ho La password Ah non posso Non posso violarlo Questo Questo mi serve Proprio la password Potrebbe essere Dancing cat Perché no Questa è fissata Quei Gattini C'è anche la La terrina Lì con Con le cacchette Tutto attaccato Non è questo Ma sei stronzo Volevo cancellare Dai Mamma mia Che palle Ho schiacciato X E mi ha detto No Ok Volevo cancellare Quello che avevo scritto Tio santo Che nervoso Ma poi Ah no Enciclopedia Sembra dei passaporti La visione Spannometrica E vado qua Mamma mia Guarda che roba Possiamo fare cose Indegne Eh non ci arrivo Che fico Ma mi faccio Molto male Da qui Secondo me Merda Ma lì c'è un soldato Non me lo Marchia Senza Oh cazzo Non l'avevo mica visto Ok Ciao Grazie Arrivederlo Mi regali della nepo Certo Come no Mamma mia Quante strade Quanta roba Ah c'era il vetro Cazzo Era talmente pulito Che non l'ho visto Ci sono le mignotte Qua Eh sì Belle No ma guarda Ci verrei volentieri Anche gratis Ma no No ma guarda No ma guarda No guarda Io non compro niente Vabbè che in teoria La storia ci sta perché sono di Praga. Sono di Praga e parlano l'inglese. Non da... Non da madrelingua. The Dreamer, fratello Pacioski. E' uno dei fleschi. No, ha semplicemente avuto la crisi della fede. La crisi della fede. Ma non sono così blindato dalla mia fede come altri sono. Era un amico, un mentor, un leader in nostra città. E' più fico in inglese, dai. Ma hai più domande? Ma che cazzo ce ne frega? Domi più su questo ascensione. Ascentologi? Il MACHINE GOTT È Matrix, praticamente. Vogliono creare Matrix. Sei simpatico dai pelatone Ed è molto simpatico anche Adam Che sa menare le mani Sa sparare ma sa anche ascoltare E queste braccia qua da Tu sei quella Più secondaria di tutto il gioco Ma che ha capito tutto E io voglio entrare qua Lei non ce la farò mai Non merda Ah non posso Non posso far niente Cazzo qua Andiamo in città Il falsario guarda Magari dopo eh però Quando dopo Ah che belle macchinozze che c'hanno Ciao mignottas Trovo abbastanza bene Sfatta con me Sfatta con me Qua sono malate Qua c'è la polizia Scrappata La polizia scrappata che parte C'è la polizia ragazzi C'è la polizia ragazzi Gli sbirri Come comprare Cosa vendi Va bene Che cosa c'hai No Bella domanda Questa Ho 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 Info Ma Cazzo Ti do i soldi E te la compri Ma che cazzo Ma Ma Cazzo Ma Cazzo Ma Vabbè Trattano tutti malissimo Per fortuna Che ho la mia visione Incredibile del mondo Stiamo combinando Nulla Oddio Per andare sul tetto Torna giù Sono fichi anche gli agenti Mettiti il casco Va che c'hai la faccia come il culo Voglio usare questo Addio Schiappe Oddio Quello adesso come rindeva Permesso Sopra i tetti come Assassin's Creed Ha Permesso Mentre ho in casa Beh rubo Assolutamente L'OSMS computer Proviamo a violarlo Allora Dobbiamo fare Tutto il giro Ma io lo farei Da qui 45 45 Proviamo Anomali Anomali Detected Trace program Initiated Access granted Ok Uff Noi entriamo a farci cazzi degli altri Allora Le confermo che la sua candidatura Per una posizione a tempo pieno Presso la Sant'O È stata accettata Ottimo Ottimo Tutto il personale Il collocamento di Praga È stato richiamato Rabbia In Oman Questo significa che anche lei Compagnia Roccai La mandano a lavorare Nel Saudi Ancora amiche Spiace anche a me Flosse Ti capisco Anche se ieri sono stata una vera stronza Non avrei dovuto dire Quelle cose sullo Sant'O Non ti rendono una persona peggiore Ovviamente il lavoro È una manna dal cielo Per te Meglio che pulire i cessi Della stazione Direi che comunque Il tuo copione Non mi piace Hai detto che ti mancavo Da quando ho iniziato a fare L'istraordinario Pensavo che mi ritenessi colpevole Per vederci così poco Ecco perché mi sono arrabbiata È lesbicona Tra un paio di giorni Non dovrò più lavorare Fino a tardi Quindi cerchiamo di sbonzarci insieme Un'ultima volta Prendi che tu parti Sarà dura Qui senza mia No Sono solo amiche E vabbè però Non c'è un cazzo Eh Siamo entrati per nulla Ruba tutto Mamma mia Adam C'ha la mano lunga Incredibile Con questi potenziamenti Guardalo Troppo pesante Siamo nelle case altrui Ci facciamo i cazzi di tutti No Ma è chiuso Qui Vabbè Guarda Chiudo che così Come se nulla fosse Il pub Hai ragione Detsec Ciao Teresa Com'è? Chiedi altro C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Oh C'è un'altra cosa C'è un'altra cosa Oh Hai la neuro Brosebarina lì La mca Eccola No la vuole anche lei Ma che palle Ma sono tutti tossici qua Dammi una birra Mi fai pena Una pecorina Ce l'hai Madonna Minchia Mi hai dato una zaida Eh ma se mi vede Oddio Vogliono tutti quella neuro Brabrina Però si vede Che magari è qualcosa Che fa bene Ai modificati No Secondo me è questa Vedi Da inalare Roba È un drogone Sicuramente Eh Ma che cazzo è Sembro un rivenditore Di Sapporo Un rappresentante Comunque Continuo Insinuarmi Nelle case altrui Non riesco Andare avanti Nella missione principale Perché devo Rubare tutto Per aspera ed astra Quando i normali cittadini Ridono e degradano I potenziati Ciao Me ne frega nulla Prostolo Oddio Sì No Che inventario pieno Dai Non rompere i coglioni Perché inventario pieno La pistola a 10 mm Me la godo Non posso Dove la posso mettere Scusa Assenzio Birra scura Ma vedi La birra scura Che cazzo Me ne frega In barriago tronco La mattina Non me la da Perché posso portare Tre armi alla volta E butta via E butta via questa Come posso No Come faccio a buttarla via Ci sono un sacco di quartierini Che cacchio Quindi è entrato un open world Bello È sempre stato Molto libero Molto grande Però in questo caso Ci sono anche delle zone Tipo queste Dove non potrei entrare No Non posso neanche picchiarlo Non mi fa Non me lo fa menare Non me lo fa menare Non lo so No No ragazzi Andiamo Verso il nostro obiettivo Che non so Orca troia Che non so Quale Cavolo Dove Cavolo sia E amen Stavo cercando Ho trovato uno spacciatore Però Vendo una droga Diversa Da quella che mi hanno chiesto Non me la vuole neanche vendere A dire la verità Ma che cazzo Siamo qui Galleria d'arte Ma guardate che roba Vabbè Vabbè Grazie Vado qua giù Oddio Fanno degli spettacolini Dramma Comedy Non capisco Vabbè Fanno Il teatrino Dei disarredati mentali Prendo un bel Palmare Che cosa dice Cara sorella Non so più cosa fare Sono mesi che Assicono le tue fantasie Ma temo di aver soltanto Peggiato le cose Ok Voglio aiutarti Ma non so come Ti prego Dimmi cosa devo fare Ah si Ma non se ne frega Poi una sega Noi Urca Prendi la spada Andro Brucia l'inferno Bene Doc Larry Doc Larry Doc Bane Collabora Che caz come si lavorasci? non importa? ti preoccupi? eh eh ovviamente non questi regolini all'interno inoltre, sono regionale e... documento che direttamente riporto a Dio direttamente e Dio direttamente e Dio direttamente senza proprio permittura io morali oblico per farci! è vero? mio amico vedo cosa stai pensando è vero la forma di fare le leggi contro il tuo tipo ma ascolti magari posso fare qualcosa per aiutare potremmo venire ad un compagno che tipo di compagno? fortunato per te conosco un ragazzo un esperto in... un agent documento bravo anche lui va bene reggi il gioco affronta tratta se volessi passare subito qua senza aspettare i tuoi documenti speciali ti stai approfittando dei potenziati aia e il tuo amico agente è lui che comanda Toffer è un potenziale per strada offre questa opportunità di fare affare con lui questo documento che hai parlato vedete la persona in charge? che riesce a te prendere a Oggs e offrire loro questa opportunità per fare negoziare con lui per vedere guardate per te stesso mio amico ha documenti per passare le registri per mantenere la polizia per arrivare per arrivare le parti di Praga che non c'era mai che non c'era dire che Drahomir ti senti vedete io ti ho dato l'addressa sì vabbè andiamo a vedere dov'è sarà quello sarà una di quelle zone dove ero entrato prima c'è un quartiere dietro l'apartement è molto facile da trovare mio amico sarà là gli amici ti prenderà il vostro permiso solo pagare lui e non chiedi domani dov'è essere qui se pensi che dopo Rosica il negozio sarebbe non è non è non è qua eccolo qua eccolo qua 35.000 35.000 il tuo amico ha detto che il tuo amico ha detto che il tuo amico ha detto che questo è stato in casa perché sono un piacere un piacere Drahomir non dirà mai che cosa dirà qualcosa come sbagliare ogni uggsucker che ti mando per quanto riguarda come potete è questo come funziona guarda mi ciò che hai e metterò il tuo nome sulla lista è questo come funziona dobbiamo entrare di soppiatto insulta paga 35 non posso pagarti più di così adesso sarete voi a pagare vabbè così si incazzano facciamo finta di niente tanto le informazioni ce le abbiamo avute informazioni ne abbiamo avute e noi adesso ci infiltriamo sfruttando le nostre capacità signori miei noi ci rivediamo al prossimo appuntamento e dovremo affrontare questi gangster da quattro soldi di praga gli facciamo una bella sorpresa ciao a tutti e grazie ciao a tutti